ed eccoci molto bene ritornati in studio grazie per essere ancora in mia compagnia siamo sempre ad Angoli vi ricordo come potete restare in contatto con la nostra redazione è sempre molto semplice lo sapete ma ve lo ricordo basta mandare la solita mail al solito indirizzo che angolichiocciolaespansionetv.it bene questa sera nella prima parte di questa serata conclusiva della settimana appunto siamo al venerdì santo abbiamo condiviso con don simone piani la riflessione sulla pasqua e gli auguri ma in questa seconda parte insomma invece apriamo a un evento straordinario guardate anch'io sono già pronta per partecipare a questo evento e ce ne parla il nostro ospite con piacere perché insomma bisogna ogni anno ricordare ogni anno tu vieni qui a parlarcene abbiamo pier felice redaelli ciao pier felice ma che bello di straordinario non c'è solo maglietta ma anche chi la la indossa grazie grazie certamente quindi mi allenerò per poi arrivare all'evento adesso lo raccontiamo nei dettagli intanto tu sei come sempre come ogni anno responsabile organizzativo di questa bella cosa quest'anno c'è anche un compleanno importante insomma i 45 anni la 45esima edizione io con molto piacere mi sono messa la maglietta ma partiamo dall'inizio quindi innanzitutto quando e dove allora sempre all'interno dell'istituto la nostra famiglia di Bosisio Parini l'otto aprile partenza della camminata alle ore nove la cosa che consiglio immediatamente non partire alle otto e mezzo da como per arrivare alle nove perché vuol dire partire alle dieci e mezzo una una cosa curiosa che i primi impiegano circa 42 43 minuti quando arrivano i primi ci sono ancora 7 8 mila persone che devono partire quindi questa già dice l'affluenza incredibile abbiamo toccato le 32 mila persone per cui uscire da un cancello da 10 metri ci vogliono sempre un'oretta quando escono tutti per cui ripeto è un serpentone di 12 chilometri per chi fa la 12 quindi allenatevi non soltanto per questa marcia ma anche per alzarvi molto presto per essere puntuali per il piacere delle mamme abbiamo anche inventato una 7 chilometri perché per le 12 arrivavano stravolte magari anche con i bambini piccoli in braccio per cui c'è anche una 7 chilometri per loro infatti quindi ricordiamo una marcia non competitiva con le due alternative quindi i 7 chilometri e i 12 chilometri quindi insomma sveglia molto presto allenatevi tutta la settimana per questo ve lo diciamo con qualche giorno di anticipo e preparatevi perché è davvero un evento che non si può perdere e che non si preoccupino di alzarsi troppo presto perché noi alle 6 apriamo i cancelli quindi siete già lì pronti a quell'ora sembra strano ma c'è già gente che arriva a quell'ora è veramente una cosa da non credere quindi insomma c'è davvero tanta voglia di partecipare i numeri diciamo lo confermano alle 7 30 parte dal saccello di don luigi monza la fiaccolata ad opera dell'unione sportiva san maurizio arriva attorno alle 8 e un quarto c'è una fiaccolata un bel percorso che arriva in giù alla partenza anticipati dai testimonial poi ne parliamo certo nel dettaglio abbiamo molto da dire dalla fanfara dei bersaglieri di como no pardon di lecco meno male che mi sono corretto in tempo mi sparavano e i testimonial sono sono importanti il primo è curioso perché è un ragazzo alessio amoruso che mi ha detto dai felicino fammi accendere il tripode da supplicato quasi ho detto beh perché no perché è un ragazzo della nostra famiglia e lui sarà il diciamo l'ultimo tedoforo accompagnato da una damigiella d'onore che è una spagnola e una mi sembra che faccia i mille mille cquecento su pista c'è una abbastanza importante e in più dietro ci sarà tutto lo staff della nostra famiglia di bosio parini che è la laura baroffio che è responsabile delle comunicazioni c'è il damiano rivolta che è il direttore della nostra famiglia bosio parini e la laura pardon la francesca pedretti che è la direttrice regionale della nostra famiglia quindi tante persone che si sono impegnate che sono presenti e che vogliono insomma in quella giornata condividere anche perché lo slogan è amicizia è la sapienza del cuore questo è lo slogan dei dei nostri amici no del gruppo amici invece lo slogan della nostra famiglia è 50 anni di bene fatto bene e anche questa è una cosa insomma che sappiamo è una grande verità se vogliamo un po di numeri diciamo che il gruppo amici è composto da 44 responsabili e il giorno della camminata 650 persone che lavorano gratuitamente chi vuole il panino se lo va e se lo compra per cui dandovi anche un po di di dati sul sul programma alle sette e mezzo come detto parte il si accolata poi lo devo leggere perché dopo 73 primavera devi comprendere anche che la memoria è andata un po' a farsi benedire e quindi ci si aiuta un po' col pro memoria scritto alcuni numeri li devo leggere ecco che appunto alle 8 e 45 c'è la partenza e ho detto 8 e mezzo no 730 quindi ancor prima alle 730 ci sarà l'accensione presso il saccello di don luigi monza ecco qua guarda ce l'ho anch'io ti aiuto alle 730 accensione fiaccola presso il saccello del beato luigi monza a ponte lambro è corretto se non ci fosse la dolores mi avrebbe inventato assolutamente sì quindi comunque alle 8 e 30 arrivo della fiaccolata accompagnata dalla fanfara dei bersaglieri che è citato poco fa di lecco di lecco eh esattamente e quindi insomma eh da lì eh inizia e inizia tutto quanto alle 8 e 45 c'è la partenza delle carrozzine sì un quarto d'ora prima partono proprio per evitare che ingombrano perché sempre eh quando do il via le nove dei dei bufali io li chiamo i bufali perché nonostante non è competitiva accidenti c'è della gente che parte sparata a mina e di conseguenza eh le carrozzine potrebbero c'è molta voglia comunque di partecipare quindi sì ecco una cosa che io lo dico anche qua lo raccomando giù di non immischiare i bambini nel nei diciamo concorrenti eh che la fan di corsa perché se ne cade uno non so cosa potrebbe succedere quindi anche una questione di sicurezza di protezione per coloro che partecipano ecco i bambini non non introdursi all'interno delle due tre mila persone che la fan di corsa velocemente certo quindi lo ricordiamo alle 8 e 45 la partenza delle carrozzine invece alle nove la partenza generale e alle 10 e 30 già l'inizio della premiazione per i primi arrivi ma come Pier Felice ci ha ben ricordato a quell'ora già ci sono un sacco di persone che ancora stanno sicuramente che stanno partendo però quindi sarà davvero una giornata una mattinata molto intensa e piena di devi comprendere devi comprendere che chi arriva che la fattuta di corsa arrivano sudatissimi per cui noi abbiamo sì una palestra dove si possono asciugare cambiare eccetera eccetera però sai questo sudore e non vorrei che si tramutasse in una malattia per cui certo alle 10 e mezzo noi facciamo la premiazione dei primi arrivati comprese le carrozzine mentre a mezzogiorno se non sbaglio no? Allora premiazione dei gruppi e la premiazione dei gruppi esattamente alle 12 quindi davvero è una mattinata scandita da tanti momenti importanti ai quali tutti hanno davvero il grande entusiasmo di essere presenti ma io so che tu ci hai portato anche un messaggio breve che io chiederei alla regia di mandare e poi torniamo in studio. Ciao ragazzi sono Michela Moioli vi mando questo video perché vorrei sostenere anch'io la 45esima camminata dell'amicizia che si terrà l'8 aprile io purtroppo non potrò esserci però mi raccomando partecipate numerosi perché è una splendida iniziativa e quindi calupo a tutti buon divertimento ciao Eccola insomma un'altra testimonial davvero d'eccezione lo ricordiamo Michela Moioli è la campionessa olimpionica di snowboard e anche lei spende parole impegno sostegno di questa camminata e viva e viva. Ha ben compreso le finalità della nostra manifestazione come ha detto è ben felice di partecipare come testimonial purtroppo non potrà essere presente perché mi ha detto che ha un impegno impegni sportivi che non può non è non è sportivo è istituzionale un impegno non so mi sembra che debba andare anche da persone importanti ma in ogni caso sarebbe più importante se venisse noi però ci va bene questo bel messaggio e l'abbiamo condiviso E a proposito di testimonial pensavo che si vedesse anche la foto di Vincenzo Nibali ed eccola qua E adesso devo raccontarvi un aneddoto Vincenzo Nibali questa maglietta gliel'ho data circa un mese fa ho avuto modo di poter parlare con lui gli ho detto Vincenzo mi raccomando dopo avergli spiegato cos'è l'associazione della nostra famiglia cerca di vincere una bella gara per i nostri bambini poi ha vinto la Milano Sanremo la domenica dopo Insomma l'ha presa sul serio? Non credo penso proprio che sia una casualità No invece noi vogliamo pensare che abbia davvero preso a cuore questa tua richiesta e che in qualche modo insomma tra i tanti obiettivi abbia voluto anche come dire dedicarlo a questo ed è una bellissima cosa Spero che sia così Sicuramente lo sarà Allora brevemente perché abbiamo due minuti a disposizione prima dei saluti Allora ci saranno anche la banda di Costa Masnaga e alle 14.30 ci sono gli Amis de Usteria che sono un signore che canta uno che lo accompagna con chitarra e fisarmonica Poi se non vado errato alle 16.45 la Santa Messa ad opera del corale Don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza Quindi sarà davvero una domenica nella mattinata scandita dalle tappe che vi abbiamo raccontato una condivisione tutti quanti sono invitati insomma alzatevi presto ma soprattutto abbiate questo spirito di condivisione importante Poi ci sarà l'arrivo ci saranno le premiazioni ci sarà ovviamente anche un momento di condivisione Certo certo Insomma per stare insieme poi a conclusione la Santa Messa Se posso aggiungere molto velocemente abbiamo circa 20 parcheggi pertanto chi se ne volesse andare dopo la camminata può uscire senza nessun tipo di problema Se posso aggiungere alcuni numeri che è la situazione del 2018 abbiamo 260 bambini di diurni 35 residenziali 112 ricoveri 180 prestazioni ambulatoriali al giorno 68 in the hospital più abbiamo la macro attività ambulatoriale complessa per cui diciamo che ogni caso tentiamo di risolverlo anche perché ben sai che c'è l'istituto scientifico Eugenio Medea lì studiano i casi proprio anche in età evolutiva Lo sappiamo bene abbiamo anche ospitato dei risultati e delle ricerche che hanno davvero segnato Lo so, lo so Dei colpi interessanti e li abbiamo voluti qui e lo faremo ovviamente ogni volta che questo succederà Quindi io ti ringrazio ancora per essere stato qui con noi Oh aspetta C'è ancora qualcosa C'ho questo da regalarti 30 secondi, veloce No no, c'ho questo da regalarti È l'oggetto che diamo a tutti i partecipanti Questo lo regalo a te Benissimo E ne do anche uno a chi vuoi tu Va bene Dentro c'è la cartolina del 5x1000 Benissimo, allora grazie davvero ancora una volta a Pier Felice Redaelli Per averci raccontato questa bellissima iniziativa che c'è ancora Dimmi Lo aspettiamo in tanti Lo aspettiamo in tanti, certo 45esima edizione di questa marcia Ecco qui quindi assolutamente da parte mia Tantissimi auguri di Buona Pasqua Noi con Angoli ci rivediamo lunedì con una puntata pazzesca Non perdete la Buona Pasqua davvero Ora c'è l'informazione Buona Pasqua Buona Pasqua